Vidi Radio Roma Futura, Dario Pepe e Luca Giovannucci presentano Radio Perbacco. Parleremo di vino, birra, distillati e di quello che ci pare. Ogni anno più o meno il 2% del whisky evapora svanisce nell'aria. È chiamata la parte degli angeli. Chi ha un naso sensibile? Io! Supernaso! No, anch'io! Una degustazione al buio. Fruttato? Prova a indovinare. Potrebbe essere un Kragamore. Kragamore. Il più incredibile dei whisky verrà messo all'asta. E visto che ci sono solo tre bottiglie, l'asta potrà superare il milione di sterline. Ma chi l'ha detto che devo un vino? Bisogna bere solo un bicchierino. Pranzo e cena senza strafare. Non mi posso più ubriacare. O mio caschetto dove ti metto? Ti nascondo anche sotto il letto. Io ti voglio sempre vicino. O mio buon caro amico vino. Rossi, bianchi, fermi o frizzanti, vi voglio bere tutti quanti. Se sono burlone, bevo amarone. Se sono contento, bevo cilento. Sono stressato, bevo moscato. Sono birichino, un fragolino. Mi sento bello, bevo brunello. Sono spinito, bevo passito. Ma se mi sento più cortese, prediligo. San Giovese, se sono birbante, bevo spumante. Se sono pignolo, bevo parolo. Mi sento salo, bevo tre piato. Sono malandrino, un bardolino. Se ho litigato con la ragazza, mi consolo con la vernazza. Poi me ne vado da Gabriella, che mi offrirà un valpolicella. Degli studi di Radio Roma Futura, Dario Pepe e Luca Giovannucci presentano Radio Perbacco. Parleremo di vino birra distillati e di quello che ci pare.